Cominciamo a fare E lui, ciao, si è aumentato di grado Allora, tutto ok? Allora Francesco, siamo qui ancora Anche nel 22 ci siamo ancora Bene, benissimo Bene, allora magistrato adesso C'ho anche il scettolo che devo prendere Bene, bene, bene Va bene Andiamo a continuare Sì, grazie Dei pedesiali Sì 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 Sì, vado. wow guarda che adesso lo si vede in altre prima bello i magistrati sono difficili da accontentare i magistrati sono difficili da accontentare sei forte quindi sono le tue amiche quelle che vedo non me la racconti giusta comunque va bene dai ci sta ci sta come è un amico questo personaggio questo castiglione però hanno avuto un ecco piuttosto limitata insiste insiste non mollare bene 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 Grazie a tutti.